Sicuramente positivamente in quanto mi sento maturata tantissimo sia dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista fisico ma anche mentale. Sicuramente aver conosciuto tante bellissime persone che mi porterò come ricordo per tutta la vita ma anche aver organizzato un laboratorio della quale sono molto fiera ovvero far conoscere le lingue straniere a ragazzi. Sicuramente il public speaking in quanto sono partita con questa esperienza molto timida mi sono ritrovata a parlare davanti a un pubblico di ragazzi e inizialmente avevo molta paura però dopo ho provato a buttarmi e ce l'ho fatta. Sì perché ritengo di avere aiutato persone ma anche me stessa di migliorare alcune mie life skills quindi perché no poter aiutare di nuovo. nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.